Grazie a tutti. Il problema è chiedersi, domandarsi e rispondere se questo è un gioco di superbia o di non superbia. Il problema è chiedersi se Dio lo permette o non lo sopporta. Perché questo è il rapporto che abbiamo con Dio. Cos'è lo scacco a Dio? È la difesa di qualcosa che non riesci a fare perché la prendi contro voglia, non è del tuo habitat mentale. È una sfida al destino che ti è stato imposto. Dio magari ha scelto per te una strada precisa o comunque ti ha dato un indirizzo e tu a un certo punto dici no, io cambio le carte in tavola, cambio le regole, non voglio più assolutamente seguire questa linea della vita e mi ribello a questa situazione. È la ribellione degli angeli, è la ribellione di Adamo, è una ribellione che è gardiana praticamente e non è di tutti 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 gli uomini, è di alcuni uomini nel libro. E proprio attraverso questa ribellione secondo me si arriva a una conclusione perché questo non è un libro di domande. C'è il libro arbitrio, abbiamo fede, è un libro di risposte. Si risponde perché c'è il libro arbitrio, si risponde perché abbiamo fede e che cosa è la fede? Sì, è un libro grottesco, direi anche divertente, piacevole perché la cornice di tutto è un dialogo fra Dio e il suo ministro principale che è Teli Cariput ed è protagonista del mio primo libro con le Inaudi che si chiamava Viaggi del Tempo Immobile. E Teli Cariput è un po' scettico, è un po' più umano di Dio diciamo perché come si sa ha conosciuto tutti gli uomini, è stato con loro e ha questo compito ingrato o strano e probabilmente anche dubbio come compito di psicanalizzare Dio. Dio è in crisi per quello che abbiamo detto perché gli uomini gli danno continuamente scacco e lui non sopporta questa situazione. E allora la parte curativa di questa crisi è il racconto continuo di scacchi dati a Dio da parte degli uomini in modo che a furia di sentirse ne parlare si guarisca Dio. In realtà poi si scopre che lui non è mai stato malato e c'è un'altra pretesa questa situazione. I racconti sono di vario tipo, generalmente sono dialoghi fra due persone, per esempio, faccio l'esempio Shakespeare e Marlow, per esempio Gide e Oscar Wilde, Catullo e Cicerone, presi un po' qua un po' là con intermezzi di personaggi singoli. Non si descrive chiaramente la vita di questi personaggi, si descrive in modo fantastico, quasi fantascientifico, un episodio che può non essere avvenuto o può anche non essere avvenuto nella loro vita e che comunque è determinante perché parla di questa ribellione e del fatto che in qualche modo gli uomini riescono a superare l'impasso del mistero che hanno attorno. Sono sicuramente maschere o archetipi di tanti uomini. C'è chi è più portato all'invidia, chi ha la superbia, chi ha la commiserazione di sé, chi ha la fantasia, ma sono precise collocazioni caratteriali di qualche cosa che è generalmente presente nell'umanità, di vizi o difetti o pregi. In quasi tutti i casi questi uomini, vedi Federico II nella sua storia con Francesco, con San Francesco, oppure addirittura Capablanca nella sua storia con Alecchi, che lo sfida e lo batte, questi uomini sono macchiette di sé stessi perché arrivano a diventare nella loro tragicità comici, tutti quanti. Più che comici, qualche patetici, comici e patetici insieme, perché hanno un sogno meraviglioso nella vita, un punto d'arrivo meraviglioso nella loro vita e non riescono in fine dei conti a conseguirlo, ma hanno anche la capacità di dimostrarsi che anche se non l'hanno conseguito hanno vinto lo stesso, quindi non si abbattono così tanto. Nella loro grottesca pateticità sono ugualmente autodifensivi, sanno superare l'ostacolo non superato. Dio si presuppone che Dio sia puro spirito, che non possa nemmeno parlare. Dovendo parlare in un libro dovevo farlo diventare uomo e allora la scusa è questa, il plafond del romanzo è questo, lui ogni volta che si presenta a queste sedute psicoanalitiche si traveste da uomo, da un tipo di uomo che gli piace, infatti sarà a volte pittore del Rinascimento, a volte cuoco internazionale, a volte equilibrista, a volte giocatore delle tre carte, farà di tutto insomma, perché altrimenti non potrebbe, entra nel tempo insomma, ma è un modo per entrare nel tempo, toccare le cose e poter parlare. Invece l'altro, cioè l'eterno Teri Caliput che cova un suo problema infinito, che è quello di non poter più insegnare ai ragazzi la storia degli uomini, è già più umano, è già più abituato a parlare e a toccare le cose, quindi non ha bisogno di truccarsi in altre maniere. No, lo scacco matto lo dà solo Dio. Noi tentiamo, crediamo che sia uno scacco che porterà a una conclusione di vittoria per noi, di debacle per lui, ma in realtà è sempre uno scatto passeggero, parziale, e quello finale è sempre in mano sua, almeno così dice Teri Caliput. Mi sono chiesto che cos'è la fede, che cos'è la carità, se è vera la rivelazione, in maniera assolutamente laica, credendoci ma nella maniera più ragionevole possibile. Infatti le risposte di Teri Caliput sono fortemente illuministiche, mentre quelle di Dio sono molto più platoniche, sono idealistiche. Ma quando ho detto all'inizio che penso che ci siano delle risposte, in realtà ci sono, ci sono delle metafore sul libero arbitrio, sulla fede, sulla speranza, sull'ultraterreno, che mi sembrano delle risposte quasi definitive, se vogliamo, su dei dubbi che abbiamo, se ci si vuole credere in quella maniera. E poi ci sono anche delle risposte che sono il contrario di quello che si pensa generalmente. Per esempio, tutto il tema della fede, trattato a un certo punto, guardate sempre in modo leggero però, lievemente, tutto il tema della fede è basato sul fatto che non si crede tanto per credere. Si crede quasi materialmente, non spiritualmente, non razionalmente, ma materialmente. Una delle frasi di Dio più consone a questa cosa è quando dice che la fede non è come guardare una fotografia e da un'ombra pensare che ci sia veramente una persona lì dentro. La fede è andare a cercare dal vivo la persona ritratta nella fotografia e trovarla. Ecco, questo intendo una fede, la fede è qualcosa di materiale.